Bene, hai visto, ci sono dei progetti per te, io l'ho visto, ci sono dei testamenti, ma i testamenti l'hanno costruito, ad esempio, dobbiamo preparare una scuola di dubbio, per mediamente una volta dell'anno che io ho chiamato a parlare, e da fronte con una persona che mi ha sentito parlare, il professor ha detto, mi ha rubito, voglio fare il testamento, come se ho fatto l'anno. Quindi, il risposto che vissi, di quanto ha dato, non è stato fatto, molti persone che hanno fatto, sono scoparcare una distanza denuncia. Come ci si può rubare? Perché vediamo, perché vediamo che questi scoposciati, e anche vediamo che, come faccio l'unica di scopo, un problema attivo, non è visto la pluralità di scopi, di essere pur, persone che mi infrebare, persone che hanno l'esplendimento di uno in una relazione, che vogliono addirittura lasciare tutto il proprio patrimonio. Non si fidano perché troppo l'ente pubblico ha percepito una cosa scontata, perché arrivo a donare l'ente pubblico e non manco finire i miei soldi, manco finiremo le persone, quindi che è molto spesso festificata da un mondo studiato. Questo è il sentimento positivo. E allora non c'è niente perché riesce a donare tramite la prestazione del comunitario, perché crede di un fondo vincolato anche solo questo trasporto. Voi non avete idea di quante parole che ricevono, quante bui dati tramite l'ente pubblico. Non so che noi non riteniamo neanche un euro, perché secondo me non è il modale, ma perché probabilmente non si fidano, scusate del padre, non vengono a te dire, questo sbagliato che si fia tra la critica del pubblico. E quindi ci sono una puntazione per verificare quanto ha restaurato il nostro ministero che fosse anche l'antare, ma alla sua repubblica. Quindi utilizziamo molto come strumento di garanzia. E allora forse anche noi abbiamo cercato in questi anni di avvicinare sovraintendenze ai ministeri per fare anche accorti con i programmi, perché è vero, noi non dobbiamo, se la provincia di Novara abbiamo solo 32 milioni di euro all'anno, scusate se poco, con tutti i settori. Solo sulla provincia di Novara, una provincia di 100 milioni di euro, dei fredditori militanti, raccomandiamo la donazione per circa 1 milione di euro, e scusate se stavate. La donazione di euro è di 25 euro. Quindi, non è vero che bisogna per forza cercare solo il panazia a bianco, bisogna far creare un sentimento di pittura, e in questo caso adesso sono anche le organizzazioni di comunità, che però va detto, quando hanno cercato, finitamente, questo è sicuramente vero, quando sono più piccoli e forse meno consciente della nostra capacità, di avere un accordo con i segnali e i ministeri, per come dire, sono stati trattati come figli di ognuno di noi. Sopriate che ormai, la compilazione di legge, nel livello quattro mondiale, ben più alti di alcune fondazioni bancarie italiane. Le fondazioni comunitari sono 40, fino a Supernibar, prima di una ventina, adesso da l'odesto, nel 47, e come dire, che il sistema funziona, poi certo, e abbiamo delle velocità diverse, ma il sistema funziona, da l'adventa, bisogna essere in conto. Allora, per questo, scusate, perché, non so se dico, perché è un strumento che non si conosce. Parliamoci, sono due luoghi, che vanno, sicuramente, a contaminarsi. Le fondazioni, sono proprio a casa, tra le fondazioni, che ha fatto un piccolo corso, di progettazione, riporto, di assaltazione, per fortuna, non ci potete rinnovare, l'inteligenza, a contaminarsi, le fondazioni nazionali, perché il fundraising, addirittura a me, non riguarda le persone, le associazioni, le associazioni assistenziali, che si occupano di abilità diverse. Riguarda anche, il settore più durato. Noi abbiamo, delle persone, che mi hanno dato, mi hanno dato le fondazioni, dicendo, voi avete dato la prima parrocchia, vedi come fare il testamento, con questo testamento, quindi ho creato un punto, memoria, mio marito, a favore di questa parrocchia. Ora, voi immaginate, che vengono guardarmi, perché è poco, che viene da me a piangere, 30 mila euro, con questa parrocchia, la fresca, che viene da lì, la maresa, tra molti anni, quando ne avrà, perché si parla anche, di arci, di coscire. Voi capite che, quando sarà il momento, più dati possibili, ovviamente, questa parrocchia, non si parla verso tutti i suoi problemi, ma è un processo, che è stato iniziato, da 10 anni fa, bisogna creare, un sentimento, di appartenenza, verso i stati mondi, è questo che è venuto a mancare, negli anni, ed è questo il problema che non verrà. La Fondazione Comunità, ma anche quella del VCO, che riusciamo proprio di parlare, anche per voi, che sono molto vicine, che sono molto personale, è disponibile a farlo, speriamo anche questo. Grazie.